E di Favara, la più bella d'Italia Sicilia 2023, la ventenne ballerina Asia Crapanzano è stata eletta a Sinagra in provincia di Messina. E il 22 settembre rappresenterà la Sicilia per le fasi nazionali all'Isola d'Elba. Asia è stata finalista regionale a Miss Universe Sicilia, a noto nonché vincitrice della serata di Naro The Look of the Year Italy. La giovane Asia è una ballerina della scuola di danza Crazy Dance di Favara. Ma quando sale sul palco diventa ambiziosa e competitiva. Numero 7 Grazie a tutti.